La sostituzione della ruota a Cecilia Jet. Miglio per anziani di categoria CD. Non corre Bizia di Casei, restano in otto, sette in prima fila e uno in seconda. Lungo i paletti Cecilia Jet, Baltimora Spav, Bonetto Star, Tirion, Argento Jet, Dilettevole Nap, Benjamin. Seconda fila per Demetra Torra. Lungo i paletti Cecilia Jet, Baltimora Spav e Bonetto Star, a lottare, poi Cecilia Jet e Dilettevole Nap. Baltimora Spav respinge Bonetto che persevera ai suoi fianchi, volati i duecenti iniziali in dodici e nove. Bonetto Star passa a condurre su Baltimora Spav. Terza posizione per Cecilia Jet, a largo Dilettevole Nap. 27 secchi il quarto d'apertura. Arriva Dilettevole Nap e giunge al salchi del Battistrada Bonetto Star. Poi Baltimora Spav, Tirion che va in seconda pariglia. Affiancando Cecilia Jet, terza pariglia per Demetra Torra. Addirittura 600 in 41 e 4. Si vola questa settima del convegno. 56 e 6. Si viaggia a media di 1,11 scarsi il passaggio agli 800 metri con Dilettevole Nap che non far prendere fiato a Bonetto Star lo appariglia. I due seguiti dalla coppia formata da Baltimora Spav e Tirion. Si arriva così ai tre quarti di miglio. Giorgio D'Alessandro chiede la lunga Bonetto Star ma Dilettevole Nap è un mastino. Lo appariglia completamente. Baltimora Spav chiusa la corda. In cerca di spazio. Ingresso in retta d'arrivo. Dilettevole sta passando, almeno quella è l'impressione. Non è così, reagisce Bonetto Star, arriva Tirion. Tirion è il più fresco, arriva Tirion. Tirion a largo di tutti, prende la meglio. Su Baltimora Spav e Bonetto Star perfettamente apparigliati. Gran numero di Tirion che va in seconda pariglia. Il portacolori della signora Filomena De Fraia con Giorgio D'Alessandro Senior sorprende in questa settima da Agnano con Graspunto rivisto in condizione eccellente Tirion. Giorgio D'Alessandro Senior e il suo realizzatore in veste di allenatore guidatore nella circostanza. I colori della signora di Fraia Filomena per il figlio di Trixton e Gisela S. Giorgio D'Alessandro Senior e Giorgio D'Alessandro Senior. Grazie a tutti.